Eccoci amici, siamo pronti per mostrarvi quello che è il contenuto del DVD volume 2 di Gioi Erina Allora, intanto entrate sul nostro sito www.gioerina.com Vi iscrivete ed è da lì che parte il tutto Perché una volta aver visionato i 5 balli contenuti nel DVD Potete prenotarlo in questo modo Vedete questa piccola immagine? Che piccola La ingrandiamo Ecco, appena entrate sul nostro sito Vi iscrivete e a metà pagina dell'home page Insomma, troverete questa immagine dove Leggete bene Clicca qui, insomma, per prenotare E cliccando sopra poi troverete tutte le istruzioni Come avere il nostro DVD a casa Spero che questi balli siano di vostro gradimento A parte che i balli usciranno su YouTube dopo 5-6 mesi Per dar priorità alle scuole Insomma, di farlo studiare O alle associazioni Di farlo studiare ai propri allievi Quindi, introvabili se non compri Il DVD Che dirvi? Passiamo direttamente ai contenuti 3, 2, 1 Go Ciao Presentazione volume 2 Gioierrina Chuck si gira Amonini, merci Ok Siamo in viaggio Siamo in viaggio Quindi Iniziamo con la presentazione del DVD volume 2 Uno dei balli contenuti È Mizzica Che è una nuova pizzica per il 2015 Ve ne presentiamo un pezzetto Ci vediamo dopo Siamo in viaggio 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 Della Sicilia Allora Il secondo ballo Che troverete sul DVD volume 2 Di Gioierrina Sarà Bello Samba caliente Guardate Ciao This is the rhythm of samba caliente You should be dancing this samba together This is the rhythm caliente of samba Samba forever Tonight you'll be dancing Like a fire the walls A sword will be dancing the samba My heart is in love La 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 Understand that my heart is in love La 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 We be dancing the samba La caliente Oggi a pranzo da soli a casa Pesce spada, insalata e fettina di pane integrale Questo è il terzo ballo del DVD volume 2 di Gioierrina Sarà un mambo Quindi chiamato Mambo James Mambo 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 Mambo, 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 singe e vai con mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Joy? Joy, svegliati Ma c'è una bella notore? E' prima svegliati Ma che? Devi presentarti i balli Quali balli? Nel DVD Volume 2 Il DVD volume 2? Dai manca il quarto, qual è il quarto? Qual è il quarto? Ti sto riprendendo Lo so Qual è il quarto? Già penso Sir Taki Sir Taki Dance Bravo Accendo il ventilatore Il quarto ballo del DVD volume 2 Sir Taki Dance, guardatelo Ciao Il ventilatore accendo Ciao 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 Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Grazie a tutti.